Tra il V e il I secolo a.C. gli antichi Salassi conquistarono e popolarono il Canavese, lasciando segni delle loro conoscenze tecnologiche, astronomiche e del loro culto religioso legato al Sole e alla Luna. Oggi sono di grande interesse questi segni per gli archeologi. A Cosano Canavese è possibile scorgere quei segni passeggiando lungo i sentieri recuperati e segnalati nell'ambito del progetto Polaris. L'amministrazione comunale, le associazioni e i dirigenti scolastici locali stanno valorizzando il patrimonio culturale e archeologico del paese, facendolo conoscere prima di tutto i bambini della scuola elementare Giulia Avetta, che nei prossimi anni diventeranno i più credibili ambasciatori del proprio territorio. Con il sostegno della città metropolitana di Torino, nell'ambito di un bando per il finanziamento di iniziative di sviluppo sostenibile, tutela del territorio, valorizzazione e recupero ambientale, il progetto Polaris ha proposto agli alunni delle classi quarta e quinta elementare una giornata didattica. In mattinata un laboratorio sull'anfiteatro morenico di Ivrea dalla preistoria ad oggi. Nel pomeriggio un'escursione sui sentieri dell'antico bosco sacro della Pera Cunca, un masso erratico segnato da alcune coppelle, incisioni semisferiche che si ritrovano in molti siti archeologici di epoca preistorica. Gli esperti ritengono che la Pera Cunca fosse un altare utilizzato dai salassi per celebrazioni religiose e sacrifici rituali. Noi siamo partiti con questi progetti riguardo alla pulizia dei sentieri, alla Pera Cunca e valorizzazione di questo territorio, anche progetti con i migranti e con i ragazzi anche delle scuole e quindi noi ci crediamo in questo e vogliamo continuare in questo percorso. I bambini sono interessati intanto ai reperti, quindi in mattinata attraverso i reperti delle varie epoche abbiamo visto sulla mappa come gli uomini, gli abitati si spostano, che ne so, dai laghi si passa ai colli, in relazione intanto ai cambiamenti climatici che sono all'origine di qualsiasi cambiamento di periodo storico che noi riconosciamo così e alle risorse naturali. Per cui oggi pomeriggio andremo sui luoghi dei Celti che per definizione stanno sui colli, proprio perché in un periodo di alluvioni eccetera e andremo quindi a vedere un tipo di religiosità che noi archeologi definiamo quasi quando le cattedrali erano verdi, cioè quando i boschi erano i nostri luoghi di culto e la cosa molto interessante è che qui oltre ad avere questo altare preistorico, la cosiddetta peracunca, ci rimane anche un toponimo, il nome del luogo, il bosco che attraverseremo ora si chiama ancora Lusenta, viene da Lucus, il latino il bosco sacro e che ha la radice stessa di Lug, il sole. I bambini devono riuscire a capire l'importanza che hanno gli alberi nel nostro contesto sociale. In automatico cercheremo di fargli capire quali sono tutti gli argomenti correlati al bosco e soprattutto vogliamo fargli capire che l'albero è un produttore di ossigeno. L'entusiasmo, ma anche stamattina c'è stato l'entusiasmo perché non era comunque la solita lezione frontale, anche la loro disposizione in palestra, in cerchio, osservavano delle cose portate dall'archeologa, quindi anche lì è stato un modo diverso di affrontare l'argomento e poi l'uscita è proprio per loro il massimo dell'esperienza piacevole che possano fare. Grazie. 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 Grazie.